Ok, chiedo scusa ma mi è cresciato tutto Ok Facciamo solo che riapro la chat Da un secondo che sto prendendo la roba Ok Un minuto Ok Ok ci siamo, scusate So che ci siamo in live, chiedo scusa Ok dobbiamo bere Io devo vedere qua che non c'è più Ok Come cazzo faccio a tirar fuori acqua, cibo e roba Vediamo Approfittati, niente sconosciuti Ok Ok Non so come Comunicazioni in radio online Mi serve lo zolfo del caverna e quei semi strani per fare la gomma Assumi fluidi Ma ancora dai non mi rompere le scatole Allora Allora OXYGEN 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 Cazzo Aia questo non mi ha fatto bene Aumenta i fluidi immediatamente Io non li ho i fluidi amico Fritz Occigen Ma dove vai se il fluidi non ce l'hai Allora Qua ci siamo andati Occigen 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 Quarto ca... No, più posto Possiamo tipo buttare... No, dove vai? Possiamo tipo buttare questa roba Poi andiamo a veloci nella navetta perchè... A meno se moriamo siamo lì dentro Sì non ho più roba da bere amico cosa devo farci ah siamo morti vabbè non ho perso niente data indicati che il giurale è stata la tua attività assicurati di variare la tua routine al sviluppo muscolare ok va bene non ho più un po' di roba Quei cazzo di maledetti semi che io non trovo. Non è che sti cosi qua. 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 da cazzo qua. non è che sti cosi 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 qua. cosi qua. cosi qua. cosi qua. non è che sti cosi qua. non è che sti cosi qua. cosi qua. o qualcosa del genere. o qualcosa del genere. cosi qua. cosi qua. cosi qua. cosi qua. dai ma guarda sti cosi qua. dai ma guarda sti cosi qua. cosi qua. ma non so dove trovare quei semi. non so dove trovare. almeno le robe principali. tipo la pistola per riparare. e mh. la retina. anche devo fare la sacca. ah. qua ci sono altri componenti. adesso raccolgo. prima li ho buttati. ne avevo troppi. Oxygen. allora. dimmi sono tutto orecchio. ah. ok. eh. navetta. navetta. quindi torno nella navetta. e faccio questo qua. che non avrò sicuramente la roba per farlo. anche lo scanner. mi serve una batteria. si craftano le batterie o si trovano? si trovano. ma si fanno con. ah. il fungo. il minerale di rame. siamo cavallo di insomaro. eeeh. eeeh. eeeh.